Abbiamo già dedicato un primo video alla figura di Giacomo Leopardi, importante scrittore, importante poeta e però anche importante filosofo. Abbiamo visto soprattutto la prima fase del suo pensiero, quello che viene di solito definito il cosiddetto pessimismo storico. Ma Leopardi cambiò idea più volte durante la sua vita, approfondì il discorso, lo allargò, divide alcune posizioni e infatti oggi approfondiamo la seconda e forse più celebre e importante fase della riflessione leopardiana perché oggi parliamo del pessimismo cosmico, sempre pessimismo però ad un livello diverso però con delle connotazioni anche abbastanza differenti. Andiamo a cominciare. Musso di caffè caldo nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che mi hanno regalato i miei ex studenti come ci sono i miei soliti compagni d'avventura, quelli non sono mai ex, Topolino, Autostoy, Batman e André il mostro peloso che da un paio di giorni è un po' precipitato e mi dimentico di tirarlo su ma è sempre lì il cuscino e si intravede forse poco un altro mostriciattolo qui. Io mi chiamo Ermanno Ferretti sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico di Rovigo e da due anni e mezzo su questo canale realizzo video spiegazioni di storia, di filosofia e di educazione civica che seguono il programma che si fa solitamente alle superiori però ogni tanto si allargano funzionano mi pare da quello che mi dite voi stessi piuttosto bene anche all'università o per preparare concorsi cose del genere poi ovviamente possono interessare anche gli appassionati chiunque voglia ripassare e riscoprire o anche scoprire per la prima volta per diletto per cultura personale come è giusto che sia i temi più importanti della storia e della filosofia. Come vi dicevo nella premessa ho iniziato in un video precedente che trovate comunque linkato in descrizione se ve lo siete persi ad analizzare la figura di Giacomo Leopardi che noi studiamo ampiamente a scuola tutti noi, chiunque ha fatto dei superiori ha studiato Giacomo Leopardi, uno di quei capisaldi della nostra cultura Mazzoni, Leopardi, Dante in letteratura sono Petrarca, i quattro big boccaccio se vogliamo esagerare insomma per dire quelli che sono imprescindibili che tutti fanno, che tutti conoscono l'infinito l'abbiamo letta tutti, a Silvia l'abbiamo letta tutti, l'abbiamo anche amata molto spesso perché l'abbiamo anche amata perché sono poesie veramente straordinarie e abbiamo studiato il nostro amico, sfortunato amico Giacomo Leopardi nei libri di letteratura mentre nei libri di filosofia normalmente, lo dicevo anche l'altra volta, non si trova traccia del nostro Leopardi, viene ogni tanto a volte menzionato così in quei capitoletti introduttivi in cui si presenta il romanticismo magari, si parlano, si citano poeti tedeschi, si parte da Goethe, si va avanti con Schiller eccetera eccetera e poi ogni tanto ah beh c'è anche Leopardi eppure Leopardi non fu solo un poeta, certo fu anche un poeta, fu un poeta di primo livello di primo ordine, ma fu anche un filosofo, possiamo riferirlo tranquillamente così perché lungo tutta la sua vita tentò di riflettere sui temi filosofici, tentò di elaborare un proprio pensiero in parte influenzato da altri pensatori, in parte anche autonomo e lo espose lo espose in maniera personale all'interno dello Zibaldone che è su questo diario letterario e culturale, ma lo espose in parte certo con riferimenti, certo in forma letteraria nelle operette morali, in prosa e a volte anche in poesia, quindi si ritrova una linea di pensiero in Leopardi, magari forse non è tutto originale perché ci sono fortissime influenze da parte di altri pensatori e da parte di altre scuole, magari non capace di influenzare la gente attorno a lui perché Leopardi in vita almeno non ebbe tutto questo gran successo, lo iniziò ad avere verso la fine e poi venne scoperto soprattutto dopo e comunque sempre più come letterato che come filosofo, però insomma un Leopardi filosofo esiste e vale la pena appunto studiarlo. Abbiamo parlato l'altra volta della prima fase, della fase giovanile diciamo, quella contrassegnata dagli studiosi dall'etichetta del pessimismo storico, oggi passiamo al pessimismo cosmico che viene datato tradizionalmente tra il 1823 e il 1830, una fase un po' più matura della riflessione di Leopardi e in cui vedremo emergono degli elementi che inseriscono Leopardi all'interno di un filone molto più ampio che si sta diffondendo in Europa. Man mano che spiegheremo le tematiche di oggi vi accorgerete infatti che ci sono moltissimi e rilevantissimi punti di contatto con ad esempio la filosofia di Schopenhauer, di Arthur Schopenhauer che abbiamo visto diffusamente invece nel nostro programma, in descrizione vi metto la playlist intera a Schopenhauer. In effetti i due personaggi sono in un certo senso due anime gemelle, nel senso che Schopenhauer in Germania, Leopardi in Italia, pur non conoscendosi, arrivano a conclusioni vicine, simili, poi con qualche differenza anche qua e là, soprattutto nei riferimenti, poi le rimarcheremo magari andando avanti, però l'impianto filosofico è molto molto simile. E questa similitudine è stata notata già nell'Ottocento, già ad esempio da De Santis, grande critico italiano e autore di una prima analisi del pensiero di Leopardi contraposto, confrontato col pensiero di Schopenhauer. Come mai questa vicinanza? L'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, lo ribadiamo. Non perché i due si conoscessero. Leopardi probabilmente non lesse mai nulla di Schopenhauer, Schopenhauer venne a conoscenza di Leopardi probabilmente solo in tarda età, quando mai aveva già detto le sue cose. E però, pur non influenzandosi direttamente a vicenda, i due arrivarono a conclusioni molto simili, un po' perché evidentemente il sentire di quell'epoca favoriva un certo tipo di riflessione. Un po' però anche perché entrambi avevano dei punti di riferimento comuni, magari non si conoscevano tra loro ma si ispiravano a qualcuno venuto prima di loro che entrambi avevano letto. Uno di questi punti di riferimento è in particolare Pietro Verri, da cui ancora oggi partiamo. Pietro Verri è, l'abbiamo citato già l'altra volta nel primo video su Leopardi, un importante filosofo illuminista italiano milanese, lo si cita quando si fa una panoramica sull'illuminismo italiano, Beccaria, i due fratelli Verri, eccetera. E Verri era stato autore di una prima riflessione sull'intole del piacere che effettivamente influenza sia Schopenhauer che Leopardi. L'avevamo già citato l'altra volta perché già nel pessimismo storico inizia a emergere una visione leopardiana riguardo il piacere, ma questa visione viene approfondita nella fase del pessimismo cosmico. Cioè cosa dice Leopardi? Leopardi dice, ma forse quello che ho pensato nei miei primi anni di attività non è del tutto corretto. Ricordo che Leopardi si era convinto che la storia, influenzato anche molto da Rousseau in questo caso, che la storia dell'umanità fosse una storia di perdita della purezza iniziale. Nel senso che gli antichi, gli uomini primitivi, il buon selvaggio, secondo Leopardi vivevano bene perché riuscivano a soddisfare tutti i bisogni che avevano. Gli uomini erano guidati e sono ancora oggi guidati dall'amor proprio, cioè cercano il proprio bene, il proprio benessere, il proprio vantaggio. E però nell'antichità questa ricerca del vantaggio, del bene personale era molto più facile da conseguire, perché gli uomini avevano meno bisogni, meno esigenze, meno desideri e avevano quindi poche necessità e quelle necessità riuscivano a soddisfarle in maniera piuttosto semplice. Per cui l'uomo nell'antichità viveva bene, ma man mano che la civiltà ha portato l'uomo avanti, quindi già con i romani e poi via via con tutte le civiltà successive, questa purezza iniziale è andata perdendosi e l'uomo si è trovato vittima, preda di desideri sempre di numero sempre maggiore, sempre nuovi, probabilmente anche inutili, che hanno condannato l'uomo a una infelicità, perché l'uomo è sempre un individuo frustrato che tende verso qualcosa che non riesce a raggiungere. Ecco questo spunto che era già presente, dicevo, nella fase del pessimismo storico, viene approfondito in questa fase del pessimismo cosmico, perché Leopardi si rende conto che non è solo un discorso di civiltà, di storia, non è solo l'evoluzione, diciamola così, civile e sociale che ci ha portati a desiderare di più. Forse questo problema del desiderio è un problema connaturato alla natura umana, cioè inizito in noi, nel senso che l'uomo ha una serie di desideri che sono enormi, desideri che vengono anche alimentati in un certo senso dalla speranza, dal sogno, dalle illusioni. Siamo noi stessi che ci creiamo i desideri, non è solo la società che ci spinge ad avere desideri, ma noi stessi ci creiamo tutta una serie di desideri, perché la nostra volontà è libera ed è infinita e quindi continuamente sovrapponiamo desideri dei desideri. E ovviamente se questi desideri finiscono per essere infiniti o tendere verso l'infinito, la nostra possibilità di soddisfare questi desideri risultano sempre basse rispetto al desiderio. Abbiamo sempre più desideri di quanti potremmo mai soddisfarne. E se questo è vero, se il nostro desiderio è infinito, ma la nostra capacità non è infinita di soddisfare dei desideri, allora la nostra natura è naturalmente destinata all'infelicità. Un desiderio realizzato potrebbe anche portarsi verso la felicità, ma un desiderio irrealizzato, un desiderio frustrato ci condanna all'infelicità. Noi desideriamo sempre grandi cose, noi desideriamo l'infinito, come la poesia ci ricorda, ma noi siamo finiti. Noi desideriamo qualcosa che trascende i limiti della nostra natura, ma noi abbiamo una natura, abbiamo dei confini, abbiamo dei limiti. E la nostra incapacità di superare questi limiti, un'incapacità strutturale, ci condanna all'infelicità. Non è colpa in fondo della civiltà, è colpa nostra. È colpa di come siamo fatti rispetto a come vorremmo essere fatti. Questa idea si fonda sempre sull'analisi di Verdi, perché Verdi cosa aveva detto? Aveva analizzato il dolore e il piacere. Aveva detto il piacere che cos'è. Il piacere non è un sentimento positivo in realtà, ma è piuttosto definibile in negativo come mancanza di dolore. Secondo Verdi infatti noi proviamo piacere quando smettiamo di soffrire, quando proviamo una cessazione nel dolore. Esempio, esempio che facciamo sempre anche con Schopenhauer. Soffriamo perché abbiamo fame, abbiamo tanta fame, sentiamo la sofferenza anche proprio fisica del corpo, se abbiamo tanta fame. Quando finalmente mangiamo proviamo piacere. Proviamo piacere perché è il cibo che ci dà piacere? Certo sì, ma in realtà proviamo piacere perché appaghiamo quella frustrazione, quel desiderio, quella tensione che avevamo. Perché mettiamo a tacere quel dolore che ci stava segnando precedentemente. Quindi il piacere deriva dal dolore. Per provare piacere dobbiamo prima provare dolore. Quindi il piacere è figlio del dolore. Quindi il piacere negativo, il dolore è in un certo senso positivo, nel senso non morale positivo, ma positivo nel senso che è una condizione reale. Il piacere invece è una condizione di mancanza, di mancanza del dolore. Pertanto se il nostro desiderio è infinito e il nostro piacere è solo un parziale appagamento di questo desiderio infinito, il piacere è molto breve, molto fugace e non riesce a superare il dolore. Quindi il piacere è solo una breve pausa, il piacere è fugace, il piacere è qualcosa di troppo piccolo per noi in un certo senso, capite? Perché se il desiderio è infinito, se la nostra volontà di realizzare cose, di ottenere cose, di provare cose è infinita e il piacere in realtà è solo una pausa in questa volontà infinita, allora il piacere è qualcosa davvero che sfugge, il piacere è qualcosa che non dura, il piacere è qualcosa che non ci appaga mai, che non ci appaga mai. Inoltre, dice Leopardi, dobbiamo considerare che non ci sono solo dolore come condizione permanente dell'uomo e piacere come condizione fugace della vita umana. C'è anche una terza condizione, e anche questa la si ritrova pure in Schopenhauer, che è la noia. Non è solo desiderio e frustrazione che ci guidano nella vita, ci sono anche momenti di noia, ma questa noia ha un valore estremamente negativo, alimenta il pessimismo di Leopardi, perché la noia non è una pausa, non è un momento di ozio come poteva essere per gli antichi, di relax, diremmo oggi, di pausa nel dolore. Piuttosto, la noia è una situazione di angoscia esistenziale, è una condizione in cui magari non stiamo soffrendo perché in quel momento non c'è il dolore che ci trascina, non c'è il desiderio che ci trascina, ma non per questo stiamo meglio, perché anzi in quel momento ci rendiamo conto della nostra esistenza così vacua, così inutile, così segnata dal dolore. Quindi, capite? Siamo ben oltre ormai il pessimismo storico. Non c'è mai stata, dice Leopardi, in questa fase, un'epoca in cui l'uomo è stato bene. Mi sono sbagliato a dire che nel passato, nell'antichità, gli uomini stavano meglio, oggi stanno peggio. Non è vero. Gli uomini sono sempre stati male. Passato, presente e futuro non cambia. Gli uomini sono sempre stati male perché è una caratteristica intrinseca dell'uomo quella di soffrire. Non è la civiltà, non è la ragione. Vi ricordate che nel primo video avevamo detto che secondo Leopardi, nella prima fase del suo pensiero, era la ragione che segnava l'uomo, che lo allontanava dalle illusioni, lo allontanava dal sentimento e lo civilizzava, ma civilizzandolo gli faceva credere e formare desideri nuovi, eccetera. No, non è la ragione. Non è la ragione la responsabile di tutto questo, anzi lo vedremo tra poco. Leopardi finisce in questa fase per rivalutare la ragione. No, il problema è l'uomo stesso. Il problema è la sua natura. Il problema è che l'uomo ha questi desideri troppi infiniti, questa volontà infinita e lui è finito. E quindi è proprio costitutivamente impossibile essere felici. Ogni uomo è con una nata di felicità. Gli antichi stavano male come stiamo male noi e i nostri posteri staranno male come stiamo male noi. È un pessimismo cosmico, appunto, perché non riguarda un'epoca, non riguarda un certo tipo di persone, non riguarda una categoria. Riguarda tutto l'universo, tutto il cosmo, tutto soffre. Tutti soffrono, sempre e comunque. E poi cercano vie per sfuggire a questo dolore, perché esiste, avevamo già detto, una fase del pessimismo storico, perché esiste l'egoismo. Quanto qui Leopardi continua a scagliarsi. Esiste l'egoismo perché gli uomini affannati da questo dolore, incapaci di sopportare questo dolore, cercano una via di fuga, cercano di sfogarsi, cercano di trovare una soluzione e la cercano a volte, anzi spesso, sfruttando gli altri, imponendosi sugli altri, usando violenza di vario tipo sugli altri, eccetera. Quindi anche l'egoismo, anche i sentimenti negativi, anche l'immoralità se vogliamo, non sono altro che effetti di questo dolore. Ed sono effetti costanti nell'uomo. L'uomo cerca è proprio bene, per la teoria dell'amor proprio, è incapace di trovarlo. E così poi magari diventa anche crudele, diventa anche cattivo, eccetera. Di chi è la colpa di tutto questo? Non è della storia, non è della ragione, abbiamo detto, no? L'uomo antico stava come noi. Allora, la colpa di tutto questo deve essere, per forza di cose, della natura a ben guardare. Chi è che ci ha fatti così? Alla fine l'uomo, vi ho detto, soffre perché è fatto in modo sbagliato, perché ha desideri infiniti e capacità finite. Ora, questo è, vi dicevo, il frutto della natura dell'uomo, cioè di come l'uomo è fatto e chi ha fatto l'uomo se non la natura? Ecco, qui c'è il grande mutamento dei rapporti verso la natura. Nella fase del pessimismo storico, la natura era vista come una natura benevola, una madre benevola, vi ricordate? L'uomo si era civilizzato e si era reso così infelice, diceva all'inizio di Leopardi, perché si era di fatto allontanato dalla natura. Il buon selvaggio era felice perché viveva a contatto con la natura, perché si serviva di quello che la natura gli dava e quello gli bastava. Questa era la prima idea di Leopardi. Quindi, nella prima fase, la natura era qualcosa di positivo, verso cui bisognava in qualche misura ritornare, mentre la civiltà era qualcosa di negativo. Adesso Leopardi cambia completamente idea di questo aspetto. La natura non è più una madre benevola, una creatrice che vorrebbe il nostro bene, tutt'altro. Si passa all'idea della natura matrigna, no? Che viene spesso citata nei libri, la studiate alle superiori, l'ha imparata a memoria. Cosa vuol dire natura matrigna? Certo, la natura è nostra madre, perché lei che ci ha fatti. Qua con natura, ovviamente non intende la dea natura, intende il mondo, la vita, l'essere, diremmo in filosofia. La natura, se vogliamo chiamarla così, neppure Dio, perché alla fine vedremo Leopardi è un materialista. Ma, di fatto, la natura, il mondo, l'essere, ci ha fatto così. Ci ha fatti male. L'unico modo per non soffrire, lo dice chiarissimamente Leopardi, sarebbe non vivere, perché la vita è dolore. L'unico modo per non soffrire sarebbe non vivere. E di chi è la colpa di tutto questo? Che è che ci ha fatto una vita, ci ha dato una vita che non può essere altro che dolore? La natura. Quindi, la colpa è della natura. È lei la responsabile della nostra infelicità. È lei che dobbiamo incolpare. E tra l'altro, questa natura è, dice Leopardi, anche insensibile al nostro dolore. E adesso vediamo cosa intende e come possiamo rapportarsi con questa natura. La natura, infatti, non è solo la responsabile del nostro dolore. Lo è, certo, ma è anche beffarda. Ci guarda e non prova pietà per noi. Ci vede e non fa nulla per cambiare questa condizione. È ingannevole la natura. È, appunto, matrigna. Matrigna ci esprime questa idea perché è la nostra madre, ma è una madre crudele, no? Che è insensibile alle nostre sofferenze, ai nostri desideri, ai nostri pianti, alle nostre suppliche. Non è un Dio benevolo, no? Qua si vede già il materialismo di Leopardi. Noi siamo abituati a pensare che, gli uomini del tempo anche erano abituati a pensare che ci fosse una forza, un Dio che fosse benevolo, che ci aveva creati, magari ci aveva creati anche preda del dolore su questa vita, ma che poi provava compassione per noi e ci aiutava e ci salvava e ci regalava una vita nell'aldilà, eccetera. No, non esiste niente di tutto questo, secondo Leopardi. Esiste, se vogliamo, metaforicamente, una forza superiore che è la natura. Ma questa natura è insensibile. Questa natura ci guarda e non gliene importa nulla di noi. L'unico scopo della natura è continuare a perpetuarsi. Non interessa nulla la natura del nostro dolore, delle nostre sofferenze, dei nostri pianti. E questo si vede in alcuni celebri passi della poesia e della prosa di Leopardi. Ve ne cito un paio, giusto perché sono talmente famosi che non si può non menzionarli. Il primo passo ve lo mostro anche a schermo e tratto dal dialogo della natura di un islandese. Lì scrive Leopardi. Dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire. A chi piace o a chi giova con testa vita infelicissima dell'universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono, a chi giova. Cioè qual è il senso, qual è lo scopo di questa vita nell'universo che è infelice e in cui tutto si danneggia e muore. Tutto continuamente si danneggia e muore senza sembrare di avere uno scopo, senza portare da nessuna parte, senza che ci sia un fine evidente. Ma perché non c'è nessun fine? Non c'è nessuno scopo? L'universo è retto da leggi meccaniche e qui si vede l'influenza anche dell'illuminismo, di certo illuminismo su Leopardi che ormai è materialista e meccanicista, nettamente. Non c'è nessun dio, non c'è nessuna provvidenza, ci sono solo le leggi della natura che sono leggi meccaniche che fanno sì che un essere nasca, viva, muoia, nasca, viva, muoia, nasca, viva, muoia, anzi meglio, nasca, soffra, muoia, nasca, soffra, muoia. Questo è il ciclo della vita dell'universo e di ogni cosa nell'universo. Era un ciclo inutile, perché dopo la morte non c'è niente, perché questo dolore non serve a nulla, non porta da nessuna parte. Dunque lui interroga la natura e dice a cosa serve tutto questo? Ma la risposta è chiara, non serve a niente. La natura non ha interesse ad arrivare ad un obiettivo, ad uno scopo, la natura ha l'unico interesse di continuare a esistere, di continuare il ciclo. Quindi tu nasci, tu soffri, tu muori e poi nascerà un altro e te ormai sei acqua passata. Nascerà un altro che soffrirà, morirà e via. E un altro soffrirà, morirà e via. E così andare? Questo è il ciclo. È un ciclo tragico, chiaramente un pessimismo cosmico, dicevamo, in cui non c'è via di scampo, non c'è soluzione, non c'è via d'uscita. Altra frase che vi cito è tratta da Asilia, una delle citazioni, sono quattro versi, se non ricordo male, tra i più famosi di Leopardi, ve li mostro. Oh natura, natura, perché non rendi poi quello che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? E anche qui si rivolge alla natura che è ingannevole, che promette, promette felicità, perché questo è un inganno della natura, no? Quando ci alimenta questi desideri, ce li alimenta perché ci dà l'illusione di poterli realizzare, questi desideri. Perché abbiamo questi desideri infiniti? Perché abbiamo questo anelito, questa tensione verso l'infinito? Perché ci illudiamo che l'infinito sia portata di mano? Che il piacere infinito sia portata di mano? Che l'amore sia portata di mano? Che la gioia sia portata di mano? E non una gioia momentanea, un amore momentaneo, ma un amore infinito, una gioia infinita? E queste sono le illusioni, ma queste illusioni non sono realizzabili. Quindi tante promesse che poi non vengono mai mantenute, ma la natura non ha interesse, la natura non ha pietà di noi. E va bene, Silvia, questo poi si lega alla questione della giovinezza di Silvia, personificata nella ragazza del villaggio, eccetera. Ma è un pessimismo cosmico, non riguarda una sola persona questa condizione, non è solo Leopardi a soffrire. A livello individuale, certo, la sofferenza è la mia sofferenza, il mio dolore, ma questo è un pessimismo ontologico, un dolore ontologico. Tutto l'essere soffre, tutta la natura soffre, tutto ciò che esiste soffre. Perché questa è la natura del mondo, questa è la natura delle cose, la natura di sofferenza da cui l'unica via di fuga sarebbe non vivere, il non vivere. Perché vivere significa soffrire. In questo senso, vi dicevo prima, e chiudiamo questa parentesi, Leopardi rivaluta la ragione. Vi dicevo che nella prima fase del suo pensiero la ragione era stata vista come qualcosa di negativo che allontanava l'uomo dalla natura e quindi lo allontanava dal piacere, dalla soddisfazione dei desideri, eccetera. Ora, anche qui, se cambia l'idea della natura, se cambia l'idea del dolore, cambia anche l'idea della ragione. Perché la ragione è il contrario di quanto aveva affermato nella prima fase, ora, nella fase del pessimismo cosmico, viene invece rivalutata. Perché, dice Leopardi la natura, la ragione è l'unica forza, capacità, in grado di rivelarci la verità. In fondo la ragione è fredda, è arida, rimane qualcosa di tagliente la ragione, di difficile da gestire la ragione, ma almeno al merito di mostrarci la verità, di mostrarci la vera natura delle cose, di mostrarci che la nostra vita è insensata. Se d'altronde l'universo è retto da leggi meccaniche, dalla fisica è basta, dalla chimica è basta e non c'è nessun Dio dietro, allora la ragione ci rivela tutto questo. C'è un passo di Leopardi in cui dice che la ragione atterra l'uomo, atterra nel senso che lo riporta con i piedi per terra, gli fa capire che i sogni di Dio, della provvidenza, di una natura benigna, eccetera, sono sogni, sono illusioni, sono falsità, sono bugie che ci raccontiamo. Invece ci riporta con i piedi per terra e ci dice guarda che la vita è dolore, rendite nel conto, guardati attorno e capisci che la vita è dolore. In questo passaggio Leopardi è sicuramente un anticipatore di certi discorsi esistenzialisti ma soprattutto direi di Nietzsche addirittura. Ricordate che Nietzsche fa un discorso molto simile quando invita gli uomini a rimanere con i piedi per terra, dice proprio con una serie di espressioni abbastanza colorite, dice che bisogna rimanere fedeli alla terra, dice vi esorto anche proprio nel Così Parlò Zaratustra, vi metto magari qualche link in descrizione, dice vi supplico uomini rimanete fedeli alla terra, fedeli alla terra vuol dire smetterla di sognare, di sognare Dio, di sognare la metafisica, Dio è morto dirà non a caso Nietzsche. Leopardi non arriva a dire che Dio è morto ma il senso è molto simile. Basta illuderci, basta con queste illusioni, usiamo la ragione per incatenarci a questa realtà che è arida, che è dolorosa, che è raggelante se vogliamo ma è l'unica vera verità. Ora sostanzialmente il pensiero di Leopardi è questo ma come hanno fatto vari commentatori, vari studiosi nel corso dei secoli, dei decenni proviamo a fare qualche breve confronto tra quello che Leopardi dice nella fase del pessimismo cosmico e quello che altri filosofi contemporanei successivi hanno sostenuto perché effettivamente qualche confronto può essere utile a capire meglio il senso del pensiero e della riflessione di Leopardi. In primo luogo alcuni hanno notato come Leopardi non solo descriva la vita come insensata, come dolorosa, come priva di finalità eccetera di scopo ma anche come assurda anticipando una tematica che è tipicamente novecentesca. Il tema dell'assurdo è centrale nella filosofia esistenzialista del novecento, ad esempio quella francese, pensate a Camus, pensate a Sartre, pensate al teatro dell'assurdo eccetera. Ecco in Leopardi già si trova qualche nota di questo tipo, cioè la vita è assurda per Leopardi non è solo insensata, dolorosa, è proprio assurda e in alcuni passaggi ripeto sembra quasi proprio di sentire un'anticipazione di quello che poi avrebbe detto Camus o Sartre quindi sicuramente è un sentire direi già esistenzialista quello di Sartre, segno che non è solo un poeta, è anche un filosofo, oltre che ovviamente un poeta d'altronde. Vi ricordate l'altra volta abbiamo detto che molto spesso si dice Leopardi è uno scrittore, quindi analizziamolo come scrittore e non come filosofo. Sì ma sono etichette. Se citiamo Camus e Sartre sono due scrittori, Camus ancora di più rispetto a Sartre, prestati alla filosofia o filosofi prestati alla letteratura. Insomma è difficile tracciare un confine perché l'esistenzialismo tradizionalmente tende, proprio anche per le tematiche che affronta, a esprimersi bene anche in forma letteraria. Tanto analizzando l'esistenza umana, creare una storia con un personaggio rende meglio l'idea di quello che si vuole sostenere. Pensate anche a Rostoievski per fare un esempio, che è uno scrittore ma con forti connotazioni filosofiche. Ecco, questo me lo aspetto. Un secondo aspetto importante riguarda poi la noia. Prima vi ho detto che la noia viene vista negativamente perché è una condizione di angoscia. Però in questo senso Leopardi dice sì, la noia è angoscia esistenziale. Non è più quel tè di un vite come era positiva nella fase del pessimismo storico, adesso nel pessimismo cosmico è angoscia. Non è il dolore ma è comunque una condizione di non soddisfazione. Però dice Leopardi, questa noia così angosciante eccetera non è inutile perché riesce a essere anche sublime in certi casi, dice Leopardi. Nel senso che proprio con la noia l'uomo rivela a se stesso la realtà delle cose. Cioè l'uomo, almeno l'uomo più sensibile, l'uomo che sa usare la ragione, nella noia, quando non soffre in quella pausa dal dolore e dal piacere, riesce a cogliere la natura insensata delle cose. Quindi, certo non è che ci risolva la vita, la noia, ma la noia ci permette di in qualche misura elevarci anche, elevarci ad avere una visione delle cose superiore. Quindi non è una gran cosa, è angosciante, ma anche l'angoscia può servire. Quindi secondo aspetto. Terzo aspetto interessante. Alcuni hanno sostenuto che in questa critica della speranza, della provvidenza, del senso, ci sia anche una forte connotazione non solo pessimistica, ma addirittura nichilistica in Leopardi. Anzi dicono alcuni che Leopardi è stato un filosofo nichilista. E lo dicono anche sulla scorta di alcuni passi di Leopardi che obiettivamente sembrano aprire, ma fortemente al nichilismo. Ve ne leggo uno tratto dallo Zibaldone, anno 1826, ve lo mostro anche a schermo. Mi scriveva questo Leopardi appunto nel 26. Tutto è male, cioè tutto quello che è, è male. Che ciascuna cosa esista è un male. Ciascuna cosa esiste per fin di male. L'esistenza è un male, è ordinata al male. Il fine dell'universo è il male. L'ordine e lo Stato, le leggi, l'annamento naturale dell'universo non sono altro che male, né diretti ad altro che male. Come vedete è in poche righe condensato quello che è l'essenza del nichilismo obiettivamente. Il nichilismo per chi non se lo ricorda bene, l'abbiamo affrontato anche in Nietzsche, proprio per vedere in Leopardi un anticipatore di Nietzsche. Il nichilismo è la credenza nel nulla, sostanzialmente. Nel senso che tutto ciò che esiste è male, tutto ciò che esiste non ha nessun significato. Niente si salva. Nil vuol dire nulla in latino, no? Quindi il nichilismo è non credere nulla, nel senso che nulla abbia un significato. Né Dio, ovviamente, ma neppure l'uomo, neppure la vita, neppure il lavoro, neppure gli affetti, niente. Non si salva nulla. Ecco, in questo passaggio sembra proprio propendere per questa visione Leopardi, perché non salva niente. Non a caso pare anche che proprio in questo stesso periodo Leopardi aveva, pare, insomma non è pare. Aveva provato ad abbozzare un inno intitolato inno ad Arimane. Arimane è un dio persiano del male, proprio del nulla in un certo senso. E proprio per rimarcare questa adesione è una forma di nichilismo, insomma. Però, però c'è un però. È vero che in certi passi Leopardi sembra aderire a questo nichilismo, proprio a una visione tragicissima dell'esistenza, a togliere ogni significato. Addirittura qualcuno l'ha paragonato a Choran, ad esempio. Vi mette in descrizione un link su Choran, filosofo contemporaneo, estremamente nichilista. Qualcuno ha visto, giustamente, un'anticipazione di Nietzsche. Anche con Nietzsche c'è qualche punto di contatto. Ma c'è un mar, ripeto, da dire. Perché la maggior parte degli studiosi, e io sono anche abbastanza d'accordo, ritengono che certo ci fosse una tendenza verso un nichilismo di Leopardi, ma che questo nichilismo non fosse assoluto. Nel senso che Leopardi a volte, nell'enfasi retorica della scrittura, di certi passaggi, di certe giornate anche, calcava un po' la mano. Ma poi un barlume di piccola speranza ogni tanto riemergeva. Leopardi, ecco, l'unica cosa che si può imputare a Leopardi dal punto di vista filosofico, è che non è sempre del tutto coerente. Per cui, ad esempio, in certi passi si vede un grande nichilismo, in certi passi invece si vede un po' di speranza. Certo, l'impianto generale rimane pessimista, ma un barlume di speranza, forse anche un rapporto con la natura non lineare emerge. La natura è matrigna, la natura è causa del nostro dolore, l'unica responsabile, ma ogni tanto sembra emergere quasi un atteggiamento da innamorato deluso nei confronti della natura. La natura a volte sembra quasi parzialmente rivalutata da Leopardi. Insomma, non c'è una coerenza estrema tale da poter dire se siamo davanti a un nichilismo vero e proprio. C'è forse una tendenza, un'apertura, ma non parlerei, come non fa la maggior parte degli studiosi, di un nichilismo vero e proprio, di contraddizioni d'altronde, e questo è un altro punto da rimarcare, ce ne sono varie nel pensiero di Leopardi. Vi ho detto, questo rapporto con la natura è un po' ambiguo, ad esempio, anche il rapporto con la ragione è un po' ambiguo, perché vi ho detto, la rivaluta, certo, però le illusioni continuano ad avere un certo fascino per Leopardi, ma anche poi questo materialismo e meccanicismo di cui abbiamo parlato. Alla fine Leopardi è sì un materialista, è sì un meccanicista, ma di tanto in tanto, soprattutto nelle opere poetiche, emerge una visione quasi panteista, no? Cioè è strano che un meccanicista, cioè uno che non crede in nessuna forza superiore, nessun dio, nessuna entità superiore, se non la natura stessa, ogni tanto però riscriva, soprattutto, ripeto, nelle opere liriche, nella poesia, la natura come animata da spiriti, energie, quasi un'anima, sembra emergere qualcosa del genere che è un tratto tipicamente romantico, tra l'altro, e quindi qualche incoerenza anche in questa fase c'è. Ultimo discorso da fare riguarda il confronto con Schopenhauer che vi ho detto, avevo detto all'inizio, l'avremmo fatto molto velocemente, perché non c'è molto a dire, se avete presente Schopenhauer avete notato che molti dei temi che abbiamo affrontato oggi si ritrovano quasi uguali in Schopenhauer, il tema del dolore, il dolore permanente, il piacere momentaneo, il piacere come vedete il poso del dolore, il tema della noia, sono tutte condizioni che si trovano anche in Schopenhauer, l'infinita volontà che ci guida, eccetera, c'è anche in Schopenhauer, anzi Schopenhauer viene filosoficamente anche forse meglio fondata, insomma, due anime gemelle. Ci sono però anche alcune levi differenze, io direi, a parte poi magari questa piccola incoerenza di Leopardi che in Schopenhauer è meno forte, in Schopenhauer c'è maggior rigore dal punto di vista forse filosofico, ma poi le differenze emergono nel rapporto con gli altri filosofi soprattutto, nel senso che Schopenhauer la sua visione la fonda, se vi ricordate, su certo un grande contributo personale, ma anche su Kant e su Platone. I due punti di riferimento più importanti sono Kant e Platone, d'altronde Schopenhauer insiste molto sulla distinzione tra volontà e rappresentazione, tra fenomeno e non umeno e il velo di Maia, ricorderete, che si fondano poi in una visione un po' riletta a modo suo della filosofia kantiana. E poi c'è questo analito verso le idee, la musica come via di fuga, eccetera, che richiama spesso anche Platone. La caverna, i due mondi, insomma, i riferimenti a Platone e Kant sono presenti e finiscono per influire sulla visione delle cose, per cui per Schopenhauer c'è un velo di Maia illusorio davanti ai nostri occhi che ci illude della razionalità del mondo, eccetera, e una realtà non umenica dietro che invece ha la volontà di vivere, eccetera. Ecco, in Leopardi questi riferimenti a Kant e a Platone non ci sono affatto, invece. Non c'è questa distinzione in due mondi, tutto questo tema non ritorna. Perché? Perché Leopardi in realtà, Kant molto poco, niente praticamente di riferimento, Leopardi si ispira molto di più agli antichi, come punti di riferimento filosofici, è molto influenzato dallo stoicismo, ad esempio, a cui si avvicinò, perché Epiteto, il lavoro è forse accennato tra russi, il manuale di Epiteto, insomma, era un lettore degli stoici, dei cinici anche, quindi si sente un influsso della filosofia antica, cinica, stoica, si sente un influsso anche e soprattutto dell'epicureismo, questo tema anche del piacere e dolore in qualche misura e del meccanicismo, di arrivare all'epicureismo, magari non direttamente all'epicuro, quanto ancora meglio da Lucrezio. Lucrezio fu un punto di riferimento importante per Leopardi, questo meccanicismo, questo materialismo che non si ritrova in fondo in Schopenhauer. Schopenhauer pensa che la vera essenza del mondo sia un'essenza immateriale, cioè la volontà, mentre Leopardi sembra aderire, anche se con qualche incoerenza, una visione materialista. Ecco, questa deriva da Lucrezio, al limite anche da qualche materialista illuminista, abbiamo detto che gli illuministi ebbero una certa influenza su Leopardi, ma il punto di riferimento principale è Lucrezio, quindi direi che in Leopardi c'è un pessimismo più materialista di quanto non ci sia in Schopenhauer, però a parte queste differenze che sono presenti ovviamente, l'impianto generale, gli esiti sono abbastanza simili. Ecco, questo è tutto, questo era quello che c'era da dire per presentarvi il pessimismo cosmico di Giacomo Leopardi, certo non l'abbiamo finito perché c'è anche una terza fase del pensiero Leopardiano, dopo il pessimismo storico, poi c'era anche il pessimismo individuale, personale, ma lasciamo stare perché è una fase che neppure si può considerare una fase, ma dopo il pessimismo storico e dopo il pessimismo cosmico arriveremo al pessimismo eroico, ma a questo dedicheremo il terzo e ultimo video della serie, per oggi ci fermiamo qui anche perché vedete il minutaggio abbastanza consistente. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i titoli che sono comparsi qui mentre spiegavo, così da riascoltarvi un pezzo oppure un altro della lezione e trovate anche libri per approfondire, link per andare a vedere altri video che ho citato e poi varie altre risorse, ci sono le playlist principali, ci sono i social network e la newsletter settimanale gratuita se volete rimanere in contatto, suggerisco soprattutto la newsletter ma anche appunto i social network se li usate perché faccio menzioni di quello che leggo, di quello che vedo, di riflessioni filosofiche, storiche, varie, insomma può essere interessante e poi sempre in descrizione trovate se volete anche i modi per dare una mano al canale, il canale ha bisogno di sostegno e se vi piace quello che faccio, se volete aiutarmi a farlo sempre meglio, li trovate i modi, si possono fare piccole donazioni, comprare libri, comprare corsi che sono utili, se volete anche formarvi, è una bella cosa da fare oppure potete anche abbonarvi al canale, abbonarvi è una modalità particolare di youtube che vi permette in cambio di piccole donazioni mensili, 3-4 euro se volete anche di più al mese, avete in cambio una chat dedicata, telegram, canale telegram, un video in anteprima, dirette dedicate, dispense, varie altre cose, dateci un'occhiata se vi interessa, trovate tutto in descrizione. Basta finito, grazie di essere stati qui fino alla fine, ci vediamo presto per concludere il percorso su Leopardi e poi per tanti altri video di storia, filosofia ed educazione civica. Ciao! Ciao!